E' vero quanto ci mette a creare questa map? Ok, si è connesso? Ecco dai, si è connesso? Oh, che bel pink! Spero non ha la sensa, è troppo bassa, spieghiamoci, spieghiamoci Oh, se abbiamo un po' pink, tu 39 però, guardaci tu, 36 di pink, oh! Io ho 79, già già è tanto per me e 80 quindi... Oh, occhio, 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 dai! Adesso, migliora la sensa Arriva, arriva Aspetta, lasciane una? Si, si No, troppo alta Oddio quanto è bello su PC, mamma mia Eh... Allora, aspetta la ricambio, eh? Si Quanto non mi sembra una problematica Oh, due, ecco qua Anzi, forse uno e... Uno e 80, perfetto Ok, noi ci arriva uno da dentro, qui Oh, 108 mil... Vai, ammazza quello là, quello là Ah, ha visto una totalità di 108 mil... Dove? Do sta? Sta qui, sta qui, qui Ah Ok C'ho l'auto di gioco che sto a farlo, ma vabbè, l'importante è che ti senti tu però, si cazzi Si, infatti Ma può essere pure il serve che fanno... Vabbè, noi in realtà non so male, male sti serve, ecco, si è unito in alto, si è unito E' entrato Usan From Bahrain, madonna Che cosa entrai in i server europei? From Bahrain Infatti pinga del mer... No, no, pinga bene invece, quel cazzo Questa mi sa che è una part... La partita... Col pinga è più basso, però io no Io sicuramente... No, eh, oh Un po' lagga con tante pinga di santo Si, so stronzi, occhio dai che so stronzi sti zombie, eh Eh... ma ma sta, dove sta? Eh? Dove sta quello che si è... connesso? Mazza, quello? Boh, me sa... Ah no, sta... Deve finire... Deve finire round e poi entra Che ci mettono? A morire, minchia Eh, si eh... Ma perché secondo me c'è pure dei micro lag Ah no, sta lagga un bot invece, 106 questo qui Ma per forza da... dal Bahrain Ma come lo puoi vedere? Ah, c'è... tab Qui sicuramente è un server... Vicino all'Italia, per forza Che sennò non c'avevo 70 pinga Si, si, ho messo che... Eh... io dovevo avere... Massimo 50 di ping Ho messo il filtro Questo in teoria c'era scritto 20... 28 di ping Che cos'è Gsta Gaming Hour? Oh! A te non spuntano quelle cose a sinistra? Si... Nient'altro si spuntano La bomba Allora, io intanto apro qui Abbiamo se un'arma perché se no qui... Su sta... Su sta merda di mappa Ti ricordi che ci avevamo fatto qualcosa? Con Tommaso? Eh... Madonna che ricordi Ah, a Tommi ti ho detto dopo guardare il video che abbiamo fatto noi di... Di... di Kino Ti ho detto Io ho preso l'arma a muro, ho preso perché... Non c'ho voglia di... De spendere i punti in casa che tanto li ha dal balistico, sono sicuro E poi questo cominciano a terra e poi che fa perdere, sa? E' sempre così, online Bands Bands Molto robabile Eh, quello Sto tenendo da concentrata Posta mappa qui che piccoletta porta... No... No, 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 no Non posso fare queste cose senza Jugger però, eh? Ah, c'è la cosa, c'è la cosa Sì, questo cosa mi ha spostato, sto tizio Oh, ma... A me si muove strano il mouse Ma che è? Ah no, è di tutto Tipo l'accelerazione... Oddio, questo odono è vero Eh, perché c'è sto tratto qui col fuoco, ci sta Ma c'ho quasi punti per Jugger, almeno L'istuale vibra che cosa significa? Dove sta? L'istuale vibra Sulle i comandi Ah, tu hai aperto la cosa dei comandi? Sì, perché sto ancora settando bene la sense, perché mi si muove in modo strano il mouse Sì Il mouse No, ma è il blocco 2 che è proprio totalmente diverso dall'1 Proprio totalmente Ah, no, aspetta, che cazzo ho fatto? No, 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 visuale libera Attivalo Ok, non mettere no, eh Perché sennò non ti passo giù Non so che cazzo serve Io c'ho la mitica MP5 che Mi ha sempre accompagnato su queste sopravvivenze su queste mappe Quindi Ah, ma è No, si dice però bravo, sembra per adesso Appena detto Dietro, dietro No, no, mi si apre la chat, raga Ho messo su Su, su Z Eh, sì, su Z Eh, no, perché Ti puoi mettere due comandi insieme, quindi può essere che Eh, ho capito Occhio, occhio, occhio a Sun, lì A Sun, come si chiama? A Sun? A Sun No, no, no Io sta mappa alla certa comincia ad essere troppo improponibile, sai Infatti Ancora mi chiede come C'ho ai punti del gioco io Ah, infatti io sono da prendere No, mi rimatteggia il pulsante del cambio arma, no, eh Oh, l'altro ieri franzionava benissimo No, mi rimatteggia il coso Che jella Oh, buono il mitraione Davvero? Buono Ma qui non salivano da qui Ah, sì, sì, ok Ti ricordi di questa mappa? Noi giocavamo un 4 sulla PS3, raga Mamma mia, che... Esplodevano Certo andavamo a 15 fps andavamo Ma comunque era totalmente diverso, eh Eh, beh Lei è totalmente diverso Su PC le gana in tuo mondo proprio Mamma mia Io appena ho visto su Black Ops 2 su PC Comunque dopo, se vuoi, facciamo qualche partita su multi Eh, multi, sì Che è più bordabile del MPU3 MPU3 ci sono male di cheat, io non so perché Male di cheat, non ci so Ah, assurdo Uso Black Ops 2 ci sono cheat, eh Però, di meno Io non so che senso c'ha Che senso c'ha a scaricare queste plutonime per mettere 6 cheat Tu dimmi il senso No, infatti C'è La gente non c'ha niente da fare Perché Sì Stai andando su un gioco morto A usare cheat Eh, ma infatti, cioè Non c'ha Non c'ha proprio senso, infatti Comunque dicevo Sì, con i partiti da multi Volentieri Perché io Non ho mai giocato multi Sì, tanto qui Qui non duriamo più dei 15 round Già te lo dico Cioè, l'ho giocato sempre con te Multi DB in Black Ops 2 E insomma Che bello ritornare a queste partite, guarda Mi scende un po' la lagrimuccia Mi ricorda quanto Sceleravamo qui con la Python A 15 Noi stavamo Mamma mia La donna Il bordello che si creava quando ci mettavamo in casa Arrivavano tutti Sì Capri le scale, capri le scale Mamma mia, davvero E poi quando Tipo uno di noi Piava al Mitaione Andava a Gage FPS al gioco Mamma mia Lì era proprio impossibile, guarda Oh, 2-2 per No, dai Oh, dai Tu videria poi che la frisetta è addensiale Oh Nooo Sono entrati L'altro è 2 Anche giusto perché qui era 8 8 giocatori Mi ho messo È da 8 È da 8 Porca puttala Qui mi sa che duramo Vabbè dai figo Duramo 3 ore 3 minuti Mi sa Ma mi sa Ma mi sa che i zombie Massimo che possono usare Per 4 Mi sa per i giocatori Credo eh Eh può darsi Io sto Io sto Io sto Anche infatti più di 4 non li vedevo Anche se ce l'ho scritto 8 Vai ricarica Sì siamo 1, 2, 3, 4, 7 siamo Siamo orientato pure Dea Dalla Turchia Turchia? Adesso metto 3 a 0 No vabbè Ieri Comunque ieri C'erano pure italiani Che Che c'erano la maglia da Turchia So Ita Turchia Parlavano italiano Infatti parlavano inglese Loro No no sono italiano Che ne so Ma la peggio cosa Uno mi è capitato uno Io ho detto Open the bottle Perché la bottiglia dovevo aprire no? Perché Perché eh Non capiva Perché Manco l'inglese capiva È un bordello Non capiva Per farlo capire dovevo fare tutti i gesti Cosa Eh 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 mo per forza qualcuno muore sa Eh Io sto ancora con l'MP5 Che è morto ecco Due sono morti Stanno a far cazzo lassù Sono morti Mi fai un cazzo Eh Beh perché Se cazzeggiate Su sta mappa non si può cazzeggiare Ma ne ha arrestato uno Perché se andate a arrestarlo dalla sotto e chiudi Allora Io non ci sono andato a sto pure Ma dove что va Mi sento un botte comunque Con comandi Comunque c'erano due vicini No No non No 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 Porca roto Arriva da Per te Ma per uno che mi erò bloccato della tua Eh ma son botte Ma no son me per otto sti zombie Sei mora al settimo Occhio alle occhio Vai 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 Mi butto di sotto Io mi vedo il click revive tanto c'è i punti Ah ma uno si può cadere di sotto Ah ma vaffanculo Eh non mi ricordo se può fare Sì 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 l'ho fatto Non è successo a modo No sono troppi ragazzi Ma sono troppi E' siamo al round 7 o 8 Che ti sta rianimando No no io Però devo fare il jugger Non ce l'hai punti C'è qui i round Durano 3 ore penso No aspetta Ma è tutto È tutto Cittato Sì eh Ho preso il jugger nog Con 2300 punti Quando costa 2500 Ah costa di meno il jugger No mi sa che lo puoi prendere Basta Qualsiasi punti hai Davvero Ah è vero Perché a me A me A me ho preso Che che cosa costa 1500 in multi E infatti mi ha tolto manco un punto No Eh Eh so così queste partite Qualca puttana Possa Tira pugni no Tira pugni a 6.000 Non me l'ha fatto bravo Vabbè mo la posta è morta Ma mi impegno Mi faccio UPN E vediamo un attimo Questo lancia granale Ho trovato Perché queste partite Si so così Mortacci luna Quindi io mi butto di sotto C'è Ah ti da un colpo Quindi se sei rosso vai a terra Ok Ok finito i colpi Io Perfetto Non mi vado a fare me cassa Però Devi violar me a muro Sono scimmiette Ma perché sto stando in tre A fare cassa lassù Si Oh vista va E non c'è la double tap Si 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 c'è 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 Guarda sti pezzi del merda Che spammano Ma io si Poi ho 2310 punti Fissi proprio Si No E' vero Non ho metto No Non ho metto più i punti Oh Eh Ma vabbè vada Mi sono cazzambotto Saliate sti cacca cazzo Ah no però Tutto ciò che costa Sopra i due punti Non puoi prenderlo Ma perché? Non lo so E' tutto mordato Perché va niente Adesso io ho capito che è successo Sono entrati No sono entrati l'alti A noi ci danno più punti Mi sa All'alti si invece Perché vedo che aumentano l'alti Mi sa Ma io infatti 2310 non posso più fare La cassa Da Che cazzo Che è andata a terra Lascio per terra A me così Quietano A me così Quietano Non credo Che quietano Ma Non posso Ok Doppi punti No l'ultimo zombie Cioè io ho proprio la stessa Vorrei farmi casta no? Eh io ad esempio Non posso Perché Non hai punti Vabbè me l'ha fatta Ma non mi ha tolto i punti No Sono Buggati Cioè tu magari ce l'avevi 900 E ti ha tolto 900 Regan Noll Ma di fare quelli classici No Io infatti avevo finito i punti E non me li dava No 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 Questi non ho preso l'NP E adesso io di meno Se mi metteranno il jungle Regan Ma che è il Mp Eh ti disattiva i perk Porca puttana No So questi So qui I classici rompi coglioni Che Che modano Non ruine la partita A te Eh l'Mp5 Mi fa più un cazzo Oh Eh Ho preso la double tap Finisco in tre secondi colpi Ma poi Eh Sì Sì La double tap Subx2 Eh OP Ho già finito i colpi Cioè io praticamente Non perdo più punti Tutto è limitato No Li perdi È solo il contatore bloccato Fidati Sì eh Non puoi fare cazza Perché l'ho finito Sì Vabbè Io però Vabbè No C'è pure Ah no ecco Se tu metti tab Ti dà i punti effettivi Ti dà Sì è vero Ecco Adesso Adesso ci ho capito tutto Oh dietro Sì è vero che cazzo Ah ma perché mi saltano È vero Che cazzo è tu? Tu sei andata a terra da? No 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 Ah ok No perché vediamo uno a terra Non so che cazzo è E niente Tocca fare la partita Premendo tab Per vedere i punti Io non lo so 6100 Oh l'executioner Minchia Due volte Eh ma tra un po' Non ho sciolto più Perché poi su sta mappa Non c'è manco il paga punch Mannaggia Questo sarebbe tutto Più complicato E poi levanto l'odio Quando stai a Milano Un zombie E vada un altro Sì infatti lo favo Spessissimo Perché qui non c'è La mira automatica Capito Su pc Ecco Che n'è a terra Dì a dare Questo va sempre a terra Ma mi sa che fermo Inque c'è muovo ancora C'è muovo il teschio Con l'ossicina Giustamente L'emblema Io c'ho Sub 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 c'è un mostro nome e una cosa del genere ma in realtà il mio non può coprire una finestra eh sì, quello sì però c'è delle armi buone quello sì, vero siamo all'undici già, pensavo che sta ancora... oddio, è vero? come è che è ancora sciatta l'execuita? si eh? eh, manco per poco devo prendere il calcio nel culo infatti appena mi finiscono le munizioni solo qui abbiamo trovato 7 perk di munizioni inizia a po' dunque il mio pc ancora va bene mi ricordavo che scioltava un botto io sta mappa ce l'ho fatto tipo con una tarry round per il combo è tu? no, no, no non c'è vi è stato attento adesso perché se vai in punti stretti se vai in punti stretti è in casotto chi è? è quello che sta sulla casa a fare la cassa sempre a fare ste cassa tanto non la prendete la mark 2 non la prendete rarissima qua ok ah la mark 2 è vero c'è la mark 2 si con la reagan si con la fortissima tutta fega la reagan ce l'ha? si si l'ho preso io ce l'ho trovata che ancora madonna ma solo uno puoi verla? no tutti si però non ha manco rara qua poi su sta mappa mi ricordo allora io faccio un pentiletto perchè sta a morire già house e innan per farmi fare la cassa pure a me ok no 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 ok oddio sembra che devo fare una cosa di corsa perchè mi si è incastato a quella cosa chi è questo? ah la salina no 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 intanto c'ho qui crea vibe via ma dove sta? che magari lo pio pure io sta proprio all'inizio dietro al bus sta ha attaccato a casa questa grossa al casale praticamente ok ah vai eccola 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 ok 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 se le esplosioni pronte stordiscono guarda se le esplosioni pronte stordiscono oh c'abbiamo tutti in buon ping però eh questo siete le belle poi il ping è U e diede però 36 almeno sì ma vabbè apparentemente tu apparentemente tu è come se si giocava offline è apparentemente tutto istantaneo ma non c'era per ricaricare veloce sì sta dentro la casa quella lì della cassa al primo di sotto no ah la speed call eccola io sono davanti ancora con l'MP5 sono c'ho 11.000 punti io con l'executioner executioner eh sì è potentissimo ma questo è rotto i coglioni sta sempre a terra questo basta che non sia tu basta che non sia tu cioè uno di noi in generale ma sì secondo me comunque sia i zombie sta per sa per quattro giocatori sa cioè nascono per quattro non per otto ovviamente per fortuna perché comunque sia si riesca a gestire facilmente ma a questo raggio dobbiamo essere in difficoltà rara adesso sta mappa ma un'altra è andata a terra ma che cazzo eh questo potrebbe essere un problema vabbè io ho la riga non faccio stata con la riga certo se vanno a terra poi ci mettono i guai a noi perché i zombie è un casino vabbè vedo che ci aiutiamo a vicenda è buono sì infatti sì perché siamo otto siamo un quarto giacca da bocca siamo morti secondo me ecco ecco per finire il round devo fare una cosa veloce ok 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 allora oh cazzo oh meno male che ho preso chi l'ha preso Lemmo io stavo a prendere le munizioni a muro un attimo prima proprio no 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 non l'ho preso per fortuna non l'ho preso no vabbè tranquillo tanto c'ho 11.000 punti no ma l'executor se gli stai tipo un centimetro all'isciotta se gli stai lontano no è tipo un po' un po' sì probabilmente sì ma le magni mi sono sempre stata un po' così a parte sono molti che sono OP vabbè sì sui zombie no perché diventano forti vabbè eh ma ha già cominciato una fatica a morire è vero oddio ma tu da me senti siccome è acceso il ventilatore mi senti bene sì no no è una bomba io sento ok ma molto meglio l'altra volta ma che hai fatto non lo so non lo so se il mattito può essere è l'aricolare miosa vabbè queste qui erano delle S2 queste cuffie erano buone no ma può darsi pure che una mano la dà anche il server eh perché si si questo qua se poi gli abbonamento cioè si sente molto meglio eh mica cosa la volta cosa se mette là su e muore si eh che pensa che le riesce a gestire ma in realtà no perché se non c'è ma secondo me c'è manco il giag che sa orco due meno male meno male che è stai a chiudere no mi hanno bloccato eh sì perché ho salito le scale e poi me ne è arrivato uno dalle scale sotto e aiuta quell'altro morto quello a terra c'è il computer mio che frigge eh d'estate vanno all'estate portati soffrono come come non mai guarda eh c'è che fa quella fa ci serve ci vuoi avere pure la 3080 ma soffrono uguale i portati perché serve il ventilatore al computer non a te eh infatti l'ho messo in direzione il computer perché a me mi arriva troppa aria questo è potente del ventilatore ma taci su va ti fa piena col monite ti fa piena il portatile lo bruciavo porca miseria eh io quello vecchio ho bruciato tre harddisc porca puttana vabbè che porca puttana io ancora non mi spiego come facevo giocare con quel computer solo io lo so perché si adatta uno che si accontenta si giocavo con Qoutras andava a fuoco cioè pure Qoutras i giochi horror sono tutti neri fatica non di meno vabbè un sacco di ombre di cose eh si dalle ombre in realtà i giochi horror hanno una grafica spettacolare perché la curano un botto per rendere un punto più realistico la voglia la voglia eh visto Resident Evil si con i suoi 4 hanno fatto un bel lavoro su PS4 cioè che non lagga e la donna geografica è bellissima vabbè ho ottimizzato per console e i dischi ovviamente c'è uno è rimasto uno lo ha ammazzato eh vabbè l'altro lo ammazzano l'arte anche su skin anche su skin chat di gioco aspetta voglio scrivere qualcosa dai no non mi poter lanciare razzi lanciare razzi da danno lanciare granate no la fenne folle mi poter lanciare la fenne folle c'è un attimo di trego adesso tagliano tutte le parti da rione come viene da poi le granate comunque ci abbiamo non me ne sto accordando oh c'ho 14.000 punti 14.000 dai no vabbè ma tu hai preso tutto io ho preso io ho solo che creava e beggia vabbè ho preso la spitcona ho fatto un po' di cazzo ma io vorrei aiutare ma sei lassù fratello mi ha dato un po' qui e te lo sa ma la sensazione sta diventando abbastanza no 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 troppi a terra troppi a terra vai questo saline va sempre a terra da qualsiasi parte mamma mia sta diventando ovviamente tosta mo ci aiuto manco pure la riga fatica adesso da ah pensavo che non mi sentivo non mi sono concentrato no dai tranquillo tranquillo no perché qui i spazi di corrente no le connessioni ci sanno no 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 ci sentivo ci sentivo ok ma come siete se non so dove è terra questo è là dietro di me porca trattata mamma mia sta marischia troppo mamma mia io ero rosso eh ho visto ho visto che ti hai circondato abbastanza eh infatti copro qui va no 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 le zoom sulle scale no come vecchie eh no sono morto mi sono sparato con la riga ne addosso porca puttana è sempre il solito problema se bene dai ci vuoi colpire le riga però quello almeno bravo arrivo arrivo è quello ok vai grazie non è la penda ma il gioco no se ci stanno i zombie qui dentro bastardi cioè i zombie sulle scale perché perché sono sempre qua su questi no 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 ok ho preso tutte tutte le bipide un po' a culo in carta la riga ne è sempre questo il problema se mi sono sparata addosso semmo ero sopravvissuto porca cazzo addosso che vuol dire che ti fa danno eh si ti fa danno se ti sparisce si è sparino zombie che sta proprio attaccato a te ti fa danno ma da black cross 2 no black cross 1 pure la black cross 1 faceva su guardatura addirittura te shottava proprio la riga senza tu sparare addosso è la prima volta che lo sai questa cosa no probabilmente te sei scordata perché mi ricordo una volta pure tu lo dici oh reagan dai questo è buono perché ci serve non levarmi forti certo se troviamo la mark 2 stiamo a cavarla magari questi questi due che stanno a far casa è possibile che non l'hanno trovata occhio vabbè siamo nella terra tutti no no il stun è forte il stun non è nella terra il stun è bravo beh in realtà pure io io sono stato sfigato pure tu sei stato sfigato vabbè soprattutto all'inizio ci mette quelle riservirebbero eh mo vado a far un po' di casse pure io ma il tiravogno ha senso no adesso no dai ci hanno due colpi adesso ho 14.000 punti non so che prendi eh fa un po' di casse tanto conviene so che è un po' rosi schiuso fa casse durante il round come so fa adesso io che in momento arriva da terra mannaggia a me ok ma se vuoi salgo su e ti copro eh no perché c'è sta questo qua su no oh bomba adesso faccio casse lei da due coglioni no ma ho rotto il caso levato adesso faccio io casse adesso spamma F si oh l'amera no non è vero è il caso l'amera è buono vai però solo zoom io devo cambiare il galil oh dai oddio che è la stessa cosa buono eh mufezzo c'è il calcio del culo che? il calcio del culo il calcio del mula eh purtroppo no vabbè diciamo sempre ci stanno solo quei tre perk eh sì c'è stata speed goal double tap no 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 eh solo se è lento col cassone no mazzo no Hussein non va a terra no eh pure lui eh è una certa ci tocca a tutti ma guarda questo zombie non ha tolto sulle scale ma rotto le coglioni ma avete rotto zombie di merda se poi almeno riparate la finestra qua su invece di fa cassa ma io sto qua giù mi sono messo all'angoletto ecco te c'è la reagan in casa si si perché non ho sciotto questi che salgono ecco la Qua cosa c'è l'hambra? L'hambra? L'hambra, la cazzuola Ah si, non è male No, non è male, però è lento purtroppo È lento sui zombie qui, adesso comincia ad essere cazzuti Oh, ma non c'è soltanto no No, io ci ho 15 mila punti da affrontare un'altra cazz, anzi è la prana, la double tap Io vorrei doveva cassa per ora Beh tu, ah no, non sarai tu ok Dai, piazzo cecchino, così ce lo toglie Che si ha le scimmietta? C'hanno le scimmiette per cui, oh eh mo Ho provato la cosa Le pistoline No, ma chi è che sta a spammare le scimmiette però? Non ho sprecato le scimmiette, Dio santo Ci servono? Ecco valla Sono tutti zombie, Norda è grandissima di zombie c'ho dietro Ok Prova Regan che fa i zoppi già Oddio ho trovato il fucile semiautomatico Che è il bar a te tipo? No, no, è l'SMR No Ok Mi sarà bloccato No, sono rosso Oh scusa adesso è stato io mi sa Aspetta eh No, è stata la Regan sui piedi Eh, tante volte aspetta che uso questo Almeno che si vanno da lui Go No, sono rosso Sono rosso e sono la Gà No No Sto aiutando pure io Corri Non lo so che ho fatto manco io, meno male Ero rosso due volte perché Dai io non posso andare più al Jug Sto facendo il giro Che ti sparo la Regan Ma dai, dai va Adesso lo accompagno io Oh, però adesso 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 Dai Corri 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 questa mappa è cominciata a essere tosta eh troppo 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 con il rosso di nuovo salina ha fatto più atterra che kill a momenti dov'era la speedcrawler? ah sotto ok sotto sotto mamma che sta diventando una cosa molto tosta che si si soppiando pure i colpi di Regan no l'ultimo zombie c'è io li vorrei scrivere non sparatevi ma ci vuole attaccato al culo no 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 vieni qua io di nuovo vorrei calciare la ganna no no attenzione raga dai l'ammazzata ehh l'ammazzata tu no 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 anche no percattra perchè vorrei tenermelo io per farvi far casa eh cosa mai faccio? ho dato via l'exegutioner e la classe mi ha dato un altro exegutioner sono rimasto in quattro ovunque, questa cosa è molto molto cattiva eh si perchè se si mi sono bisogno che l'hanno uscita oh mi sono da otto ah, urcico mi lascio lì che è meglio no io però la devo fare una cazzo no oh sto Salina ha rotto il cazzo Salina ah, volo le scimmie le t'ho trovato madonna che mina che c'ho di merda fatte da una smirata da quelle assurde madonna che cosa c'è qua tutti a terra io ti ho dato, vieni eh minchia sono un coglione cazzo cazzo la Regan comunque no vai dai no 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 va bene va bene eh ma io dove cazzo vado ma allora va a far giro vai a far giro che sto qua vicino al quick revive se ce la fai ti ho preso il jug guarda che piova anche di bitone e tu sei? sto qui davanti al quick revive qui qui poi qua c'entro mappa eh no non posso boh no è colpa loro eh sono andati tutti a terra ma che cazzo è andata a terra oh sono più punti no non ho fatto più punti tu ho fatto più punti di tutti dai e più kill ah 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 beh beh ha un camisa camisa è un camisa